il leccio si tratta di una specie di quercia che viene chiamata anche quercia verde per il fatto che non perde le foglie durante i mesi invernali in genere le foglie hanno una vita di 4 5 anni quelle delle piante giovani hanno margini dentellati con punte pungenti mentre quelle degli alberi maturi presentano il margine intero sono coriacee con la parte superiore liscia e quella inferiore lanuginosa questa specie forma la parte preponderante della macchia mediterranea alta e la si trova sia in boschi puri quindi di soli lecci sia in gruppi misti come questo raggiunge anche 20 metri di altezza i frutti sono piccole ghiande dal corpo bislungo con un cappuccio caratterizzato da piccolissime squame la corteccia del tronco sottile nera e ruvida nelle piante adulte si fessura in piccole scaglie rettangolari grazie a tutti